Stefano Raimondi, 23 anni. Stefano Raimondi, 23 anni. Stefano è arrivato sul po' dei campionati italiani giovanili normodotati, quindi ha fatto un percorso eccezionale, grazie all'allenatore, grazie alla famiglia. Stefano Raimondi, 24 anni. Dopo un bel po' di anni che avevo fatto l'incidente che mi ha dato questa opportunità di provare come fosse l'ambiente paralimpico e poi entrare a tutti gli effetti come un atleta paralimpico. L'obiettivo era l'olimpiade, mi sono sempre il sogno di ogni atleta e dopo si è trasformato nella paralimpiade e quindi il filo è rimasto quello e anche l'obiettivo, più che altro il sogno più che obiettivo. E finalmente, sì, sarà realtà. La diversità Unicità molte volte non vuol dire quello che tutti pensano diverso ma è l'unicità, quindi con ognuno di noi è diverso perché è unico. Unico 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 Unico